Diciamo che mio marito è stato operato al cuore dieci anni fa a diversi, diciamo con un intervento ne ha fatto quattro e sì che insomma è venuto anche di lì ecco A Rezzo, una città ancora di più cardioprotetta, un altro defibrillatore è stato infatti installato nelle scorse ore nel quartiere Gattolino grazie all'impegno di tutta la comunità E' nato per scherzo perché il giorno siamo tre amici che ci troviamo tutti i giorni e le battute e ho principiato a dire ma perché non si mette un defibrillatore tra tutti e la cosa è andata avanti così, poi dopo la mia moglie l'ha proposta all'assemblea e l'amministratore Anna Meucci ha condiviso l'idea Questo defibrillatore condominiale ma in realtà di quartiere di lei che viene installato e inaugurato qui oggi a Rezzo rappresenta davvero quello che è il sistema emergenza-urgenza che coinvolge tutti la rete, cittadini, privato, pubblico e soprattutto i miei colleghi, professionisti del 118 che fanno grande rete con il mondo del volontariato Grazie a loro si è diffusa la cultura dell'intervento precoce sul territorio e da qui l'importanza di impiantare e installare un defibrillatore anche in una zona così abitata come questa di Arezzo Sono fondamentali perché colmano quello che è il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo del primo mezzo di soccorso dove il sistema sanitario non può arrivare in così breve tempo e quindi i cittadini, chiunque sia nelle vicinanze che possa utilizzare un defibrillatore fa realmente la differenza La formazione per l'utilizzo dei defibrillatori inizia già in soggetti molto giovani e chiunque può accedere a questo tipo di formazione e con un addestramento piuttosto semplice riuscire ad utilizzarlo in caso di bisogno Ricordiamo comunque che i defibrillatori si possono utilizzare anche senza una formazione specifica guidati dal personale della centrale operativa ma che comunque la formazione è veramente breve e semplice quindi chiunque veramente può salvare una vita utilizzando un defibrillatore